Buongiorno, oggi diamo il benvenuto all'utente TranspoBank Volbonetti Niccolas di Forlì e diamo la parola a colui che oggi la rappresenta. Buongiorno Claudio. Buongiorno, noi siamo un'azienda di trasporti di Forlì dotata di un'azienda di mezzi tra bilici e motrici. Utilizziamo TranspoBank soprattutto per non girare a vuoto la nostra tratta in tutta Italia per cui ci è comodissimo, siamo contentissimi del servizio, abbiamo trovato anche tanti colleghi, tanti collaboratori con cui al di fuori di TranspoBank oggi collaboriamo e anche di questo siamo molto contenti. Se siete interessati a conoscere la banca dati dei trasporti TranspoBank potete contattarci allo 02 20 57 11 oppure scriverci all'indirizzo www.transpobank.it www.transpoBank.it